Ciao Lobster Official Tube e grazie per gli auguri E poi devo ringraziare Alex David per avermi suggerito una top 10 abbastanza interessante da fare però è un po' complicata da realizzare perché non otto abbastanza informazioni quindi se le trovo molto bene la farò e ringrazio tutti quanti voi che commentate e mi proponete nuove top 10 però molto spesso non sono così semplici da realizzare infatti fino ad ora ho realizzato soltanto due top 10 che mi avete suggerito ma molto spesso sono complicate da realizzare quindi scusatemi per questo comunque ne ho trovato un paio interessanti delle vostre che mi avete proposto quindi mi raccomando ragazzi continuate a provarmi di fare i top 10 perché... perché... sì Veniamo all'argomento di questo video io sarò al Romics insieme ad altri piccoli youtuber quindi se volete partecipare, unirvi, aggregarvi insieme a noi siete benvenuti in questa nuova ed incredibile famiglia sicuramente prima dell'evento farò un secondo video in cui decideremo l'appuntamento e l'orario e soprattutto i giorni lo so, dovrei dirvelo già adesso però non ne sono sicuro però ecco se mi dite guarda io ci starei la domenica la domenica è molto probabile che io non ci sia quindi per la domenica vi vedrete con gli altri invece per venerdì, sabato e forse anche il giovedì mi sto organizzando seriamente per esserci quindi ragazzi fatemi sapere se sarete a Romics e ricordatevi di suggerirmi nuove top 10 perché siete il sale di questo canale ragazzi detto questo ragazzi youtube